Buongiorno a tutti, mi chiamo Deborah Gilisio, atleta da 28 anni, nel tirovolo. Ho vinto la medaglia d'argento all'Olimpiadi di Sydney 2000. Felicissima di partecipare a questa grande iniziativa di Restart Dolomiti. Io parteciperò con questa mia giacca che è stata data per le Olimpiadi del 2008 di Pechino. Io vi aspetto numerosi all'asta che verrà fatta il 26 di gennaio a Villa Pat di Sedico. Un saluto a tutti!